Ciao ragazzi, parliamo di rappresentazione di dati e fenomeni e leggi fisiche. Noi possiamo rappresentare un determinato fenomeno con una tabella, con un grafico o con una formula. Ad esempio, se noi misuriamo masse e volume in una serie di campioni diversi, possiamo raccogliere in tabella queste informazioni. Naturalmente sono delle misure, quindi rappresentiamo la misura con l'incertezza. In alcuni casi, una volta rappresentati i dati in una tabella, può emergere una certa regolarità e allora è possibile rappresentare il processo mediante una formula. Le relazioni tra due grandezze possono essere rappresentate graficamente mediante i cosiddetti diagrammi cartesiani. I grafici sono molto utili perché? Perché permettono di visualizzare in modo abbastanza evidente la relazione tra due grandezze fisiche. Per costruire un grafico noi possiamo partire da una tabella di dati o da una formula. Vediamo un esempio di come possiamo realizzare un grafico partendo da una tabella. Supponiamo di avere raccolto in questa tabella le distanze percorse da un ciclista assieme agli istanti di tempo corrispondenti. Fissiamo come t uguale a 0 l'istante della partenza. E ora andiamo a rappresentare questi valori in un diagramma cartesiano. Poniamo sull'asse delle ascisse il tempo in minuti e sull'asse delle ordinate la distanza percorsa in chilometri. Ora utilizziamo una scala opportuna per i tempi. Possiamo rappresentare qui che ogni due quadretti sono 15 minuti, mentre sull'asse delle y invece facciamo che ogni quadretto corrisponde a 4 chilometri. Andiamo a rappresentare i dati. Al tempo 0 la distanza percorsa è 0, al tempo 15 minuti sono stati percorsi 4 chilometri, dopo 30 minuti 13 chilometri, ci posizioniamo più o meno qui, 45 minuti 15 chilometri, quindi ci posizioniamo più o meno qui. A 60 22 chilometri siamo a metà tra 20 e 24, a 75 siamo a 25 quindi possiamo metterci qui e a 90 siamo a 36 per cui siamo arrivati quassù. Intanto vediamo che se unissimo i puntini non otteniamo una linea retta, il che vuol dire che questo ciclista non ha viaggiato con regolarità. Nell'intervallo tra 30 e 45 minuti ha percorso solamente 2 chilometri, vuol dire che ha avuto un rallentamento oppure si è fermato, così come tra 60 e 75 minuti, quindi in un quarto d'ora qui ha percorso solo 3 chilometri, anche qui ha rallentato o si è fermato oppure ha affrontato un tratto in salita, non si sa. Invece tra il minuto 75 e il minuto 90 ha percorso 11 chilometri, perciò ha viaggiato a una velocità più elevata. La pendenza dei tratti che noi possiamo ottenere collegando i vari punti ci dà proprio la velocità. Nell'ultimo tratto la velocità media è stata maggiore perché vedete abbiamo un tratto con una pendenza maggiore, qui invece la pendenza è bassa e anche qui sono i tratti in cui lui ha viaggiato a una velocità più bassa, cioè ha percorso meno strada nell'intervallo di tempo che noi abbiamo stabilito qui. Ogni 15 minuti abbiamo diciamo un punto di valutazione. Consideriamo ora il caso in cui siamo in presenza di una formula e vogliamo costruire un grafico. La formula permette di costruire una tabella assegnando alla variabile x dei valori e calcolando i corrispondenti valori della y. Pertanto passiamo sempre attraverso una tabella per comodità. Vogliamo ad esempio rappresentare graficamente y uguale 2 per x al quadrato. Costruiamo una tabella con valori comodi della x che ci consentano di calcolare la corrispettiva y. Se io metto qui 0 vuol dire che nella x metterò 0, 2 per 0 fa 0. Se metto un mezzo che cosa ottengo per y? Y è uguale a due volte un mezzo, attenzione però un mezzo è al quadrato perché qui c'è 2 per x alla seconda, quindi vuol dire 2 per un quarto che fa un mezzo. A questo punto se metto 1, 2 per 1 al quadrato fa 2. Se metto 2 y è uguale a 2 per 2 al quadrato che fa 8. Spero che sia chiaro come sono stati ottenuti i valori di y. A questo punto noi abbiamo delle coppie di valori che rappresentano dei punti sul piano cartesiano. 0, 0 è l'origine. In corrispondenza di x uguale a un mezzo cercherò y uguale a un mezzo e così via. Il grafico che si ottiene è questo, l'ho ottenuto con un software. Vediamo che la curva passa per l'origine 0, 0. Poi quando x uguale a un mezzo y è uguale a un mezzo. Quando x uguale a 1 y è uguale a 2, poi abbiamo il punto 2, 8, quindi 2, 8. Si potrebbe vedere cosa succede quando x uguale a 3. Vedete che qui andiamo fuori dal grafico perché il valore è molto elevato. Infatti 3 alla seconda fa 9, 9 per 2 è 18. Parliamo ora della relazione che può esistere tra grandezze. Ad esempio parliamo di grandezze direttamente proporzionali. Due grandezze sono direttamente proporzionali se il loro rapporto è costante. Questo vuol dire che al raddoppiare di una grandezza anche l'altra raddoppia, al triplicare di una anche l'altra triplica e così via. Se una si dimezza, l'altra si dimezza. Questa è la rappresentazione matematica. Y fratto x, se x e y sono le due grandezze, è uguale a k, dove k è appunto una costante. Oppure può essere scritta come y uguale kx. Ad esempio il perimetro di ogni quadrato dipende dalla lunghezza del lato. Se noi consideriamo il perimetro come variabile dipendente, il lato è la variabile indipendente, ovvero il perimetro dipende dalla lunghezza del lato. E allora se il lato raddoppia, anche il perimetro raddoppia, così come se il lato triplica, il perimetro diventa triplo e così via. Il grafico di due grandezze direttamente proporzionali ha un aspetto di questo tipo, cioè assomiglia a una retta. In questo caso partendo dall'origine degli assi è una semiretta. Comunque si tratta di punti allineati con l'origine delle coordinate. Abbiamo un caso particolare che è quello della dipendenza lineare. Due grandezze sono linearmente dipendenti quando al crescere di una cresce anche l'altra secondo una relazione di questo tipo, y uguale kx più y0. Perciò y uguale kx è la relazione vista in precedenza, a cui aggiungiamo un parametro. La rappresentazione grafica è una retta che non passa per l'origine. Maggiore il valore di k, tanto più ripida è la retta e questo vale anche per le grandezze direttamente proporzionali. Parliamo ora di grandezze inversamente proporzionali. Due grandezze si dicono inversamente proporzionali se il loro prodotto è costante, x per y uguale k oppure y uguale k fratto x. Supponiamo di avere un rettangolo e di variare la lunghezza di uno dei suoi lati mantenendo costante l'area. Cosa succede all'altro lato? Beh, se l'area deve essere costante, sapendo che l'area di un rettangolo è data dal prodotto tra i due lati, se un lato raddoppia l'altro dovrà dimezzarsi e così via. Qui è rappresentato in questa tabella il fatto che se ad esempio un lato che valeva 6 metri diventa 12, quindi raddoppia, l'altro lato per mantenere costante l'area sul valore di 24 da 4 deve diventare 2, quindi si è dimezzato. Se il nostro lato diventa 4 volte più grande, cioè da 6 passa 24, l'altro lato diventa 4 volte più piccolo, cioè 4 diviso 4 che fa 1. Il grafico di due grandezze inversamente proporzionali è un ramo di iperbole, perciò ha una faccia di questo tipo. Vediamo l'esempio sulle grandezze inversamente proporzionali. Qui abbiamo un triangolo isoscel che ha area di 50 cm quadri. Supponiamo che la sua base x e la sua altezza y vengano fatte variare in modo che l'area rimanga costante e quindi ci troviamo qual è la relazione che lega x e y e qual è la rappresentazione grafica. Per trovare la relazione che lega x e y devo ricordarmi quanto vale l'area di un triangolo. L'area di un triangolo è base per altezza diviso 2 e lo rappresentiamo come appunto un mezzo, x è la base, y è l'altezza e il valore ci viene fornito 50. Come possiamo scrivere in modo alternativo questa uguaglianza? Moltiplicando qui per 2 e anche dopo l'uguale per 2, cioè a primo membro e a secondo membro, qui rimane x e y e qui rimane 100, 50 per 2. E questa è la tipica legge che rappresenta due grandezze inversamente proporzionali. Se noi da questa relazione x per y uguale a 100 andiamo a sostituire alcuni valori, ad esempio se x uguale a 2 per ottenere 100 y dovrà valere 50, se x uguale a 5 per ottenere 100 y dovrà valere 20 e questi li possiamo poi rappresentare su un grafico. Concludiamo parlando di proporzionalità quadratica. Abbiamo che una grandezza y è direttamente proporzionale al quadrato di una grandezza x se il rapporto tra y e x quadro è costante. y fratto x al quadrato uguale k oppure y uguale k x al quadrato. Cambia rispetto alla proporzionalità diretta semplicemente il fatto che al posto di x c'è x alla seconda. E la rappresentazione grafica è una parabola passante per l'origine degli assi e analogamente per la proporzionalità inversa al quadrato. In quel caso, cioè questo, sarà costante il prodotto tra x al quadrato e y oppure possiamo scriverla in alternativa come y uguale k fratto x al quadrato. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video. Siate buoni, lasciate un like e condividete l'esistenza del canale. Sperando che il video vi sia stato utile, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!